allora benvenuti siamo nel canyon matca e già siamo nel canyon matca praticamente questo è un canyon formato da questo fiume che scorre il canyon è questo qua adesso piano piano ci facciamo un giretto interessante non so un paio d'orette facciamo una camminatina insomma tre orette perché sennò dobbiamo aspettare un'ora l'autobus quindi meglio camminare perché comincia a fare freschetto anzi fa piuttosto fresco questo è l'ultimo giorno di macedonia allora ripassiamo assieme macedonia no macedonia macedonia insieme macedonia perfetto scopie 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 anche se la pronuncia albanese è quella che si avvicina di più al nome romano perché gli albanesi dicono scopi il nome romano era scopie 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 cumanovo no cumanovo cumanovo ripetiamo cumanovo benissimo bravissimi niente qui continua l'ho canyon vedete la belta di questo paesaggio soprattutto visto che non piove non piove al momento diciamo e basta mentre continuiamo a camminare facile proprio oggi giornata a camminare e poi giornata a camminare diciamo dopo che abbiamo camminato nel canyon marca ci facciamo l'ultima passeggiatina per scopie no scopie no scoop scopie e basta facciamo gli ultimi due tre video voglio far vedere un po' di cose tipo madre teresa queste robe qua e poi facciamo un video nel quartiere vecchio nella parte vecchia un po' più turca diciamo e poi basta i prossimi video si sentiranno soltanto il rumore si sentirà soltanto il rumore dei miei passi perché non parlerò quindi già lo premetto guardate che bello grazie